Regnava ancora la miseria della prima guerra mondiale, quando verso gli anni 40 si affacciava già la seconda guerra mondiale, i tedeschi, le bombe, le sirene, finalmente l'arrivo degli americani, maimè, questi anche se ci salvarono, ma di quante donne approfittarono, quanti bimbi neri nacquero in questo periodo. Ebbè, sono storie triste, storie tragiche per Napoli, ma il popolo di Napoli non si perde mai, alza la testa e va avanti. Eh, maronna mi, maronna mi, facetemi fare due passi e passi, è logico, perché non lo so se si rimane, ma mangia. E' a ropa massiva, pure i scorsi mi faccio durare dei fritti. Che vorrei chi, no? Ma fosse una volta che mi schiarasse una bella giornata in sole? Mai, mai! So sempre a caso lì, aspetta, aspettiamo, aspettiamo. Buongiorno, com'è Maria? Buongiorno, com'è? Eh, com'è? Tenisva la carta di macaruna? Sì, no, tengo. E magari pure uno cuore le caffè? Sì, no, tengo pure quella. A ropa può pagare, però mi raccomando, non lo dici da nessuno e non lo faccio vedere. No, no, per l'amore di Dio. Eh, per l'amore di Dio, a così dicono tutti. E intanto, a ieri, la signora Carmela, si è fatta vedere che tenevi in sigaretta e hanno sudato. E il rai, tu pure l'hai venuto a prendere da me? E non sapessi, ma quanti vuoi oggi passati, ieri? Buongiorno, Gennarino. Buongiorno, Gennarino. Hanno arrivati i sigaretta? Sì, hanno arrivato. E datemi il pacchetto, sto senza da tre giorni. E che voglio che tenga i fumati? Eh, Gennarino, quale volete? Datemene un, che vi devo dire? Eh, chi lo ha volito voi, Gennarino, va volito. Andrì, se lo ha volito, va. Teniste bene, mi è tutta un canino. Eh, tengo pure chi lo, Gennarino. A una Maria non manca niente. Uh, è piccato. Lo faccio vedere. Gennarino? E vi pago domani? Eh, vi pago domani. Fanno tutto quanto così. Hai voglia che i amatini mi metto fuori qua la loggia e dico yes, sole, yes, sole. Mai, mai. Una giornata di sole non può mai schiarare per me. Uh, Gennarino. Eh, dica signora Maria. Ma che stiamo guardando la tua morosa? No, per carità, quale morosa? A proposito, ora vicino era amoroso e un Gennarino. Ma, voi ho saputo che è successo in questi giorni? Che è successo? Niente di meno. In un pomeriggio intero sono segnato un coppato americano. di cui uno era di colore. Di colore? Eh, che significa di colore? Era malucchino. Oh, Gesù, 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 Gesù. Ma che agendare per cagare? Non c'è gabiessi niente chiù. No, io non capisco in modo che succede. Io non capisco in modo che succede. Io non capisco in modo che succede. No, io non capisco in modo che succede. che è Lucio 3, Lucio 3, Lucio 3, Lucio 3. E andate non c'è, Tone, andate lì. Chiama fu Gennarino, si, signori, Gennarino. E si, signori, Gennarino. Guardate se, 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 se. Ma a proposito da sé, contro parte con me, chiude, c'è un cuore per Gennarino. No, va bene, di, 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 di. Abbiamo fatto un uro, e un uro, e un uro. Cinque, sei, sette, ore, un ruivare qua, cinque, sei, sette ore, un ruivare qua, cinque, sei, sette ore, un ruivare qua, cinque, sei, sette ore. E ti sovano là, nemmè parlà, perché si è ragionato, che stia fatto un giuspecato. La roba si no fuga, no te arrecchis E se tu riesce, se mettra al ginnaghe Mi rillo mamma, rillo puramente Con sovante con me iude, chichotorle pochis Robati, diri, 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 combate Una, due, tre, quattro Chico sale seteo E un, due, tre, quattro E cinque, sei, sette, otto Ma le veri, voi sapete che succede? Che succede? Hanno buttato sotto le creature Uuuuh, ma rossa So con te recumore che sta a fare So con te recumore che sta a fare Che cosa non so dare, se ne vede la migliore E se ne vede la migliore E un po' da qua sto su, guarda Che avevano arrivato, se sta a fatto apprezzerà E me, no, guardate, sì, 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 sì La pressione, sì, come vogliamo, cicciotorle Come vogliamo, eccoci Lo vatten, diri, 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 umma che E un, due, tre, quattro Che sei, setteo E un, due, tre, quattro Che sei, setteo E un, due, tre, quattro Che sei, setteo Grazie a tutti. 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 E tu per preparare tutto questo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.